Due volte ho richiesto risposta all'interrogazione, per due volte il governo regionale Marsilio ha rinviato a data da destinarsi la risposta a questa interrogazione, perché semplicemente affermavo purtroppo una cosa vera, ovvero che questo centrodestra, questo governo regionale hanno tagliato nei capitoli della regione Abruzzo ben 7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Questo porterà o a un'interruzione dei servizi, o a un debito fuori bilancio, o a un contenzioso esteso e molto grave per le casse della regione. È davvero irresponsabile tagliare un servizio così essenziale, i trasporti rappresentano la seconda voce di bilancio e una funzione per costituzione delegata proprio alle regioni. Bisogna reintroitare quelle risorse e d'altra parte non può non essere sottolineato che nel mentre hanno utilizzato centinaia di milioni di euro, anche in anticipazione rispetto alle prossime programmazioni, molte risorse sono andate, cosiddette, a pioggia per finanziare un po' dappertutto, anche situazioni molto meno rilevanti, il trasporto ha conosciuto e sta conoscendo il taglio più grave della storia di questa regione. Torniamo a sottolineare non soltanto che vogliamo una risposta a questa interrogazione, ma che soprattutto vanno reintegrate le risorse per i trasporti.